Cittadini del mondo. Bentrovati. Ogni essere umano nel rapportarsi agli altri indossa una maschera, c'è chi lo fa per nascondere la sua natura malvagia e chi invece per nascondere la sua enorme bontà. Tutti, a nostro modo, siamo stati falsi in alcuni momenti della nostra vita, a volte per educazione, a volte per paura e istinto di sopravvivenza, a volte per un sentimento di smarrimento, a volte perché non sapevano che cosa dire. Ma poi ci sono le persone autenticamente false, quelle che mettono in atto la loro finzione premeditata. Su internet è pieno di falsi profeti, gli stessi che fanno finta di indossare la maschera di Guifotes distruggendo, denigrando, umiliando e ridicolizzando un simbolo di pace, uguaglianza, verità, giustizia e amore. Dietro a queste finte maschere, ci sono agenti federali, Europol, CIA e tutta la bella compagnia, compresi fascisti governativi che spesso si fanno chiamare antifa. Ma non solo. Ci sono stupratori, abusatori, satanisti e molto altro. Gente che si nasconde dietro una maschera di pace per agire indisturbati. Noi sappiamo chi siete. Non puoi fermarci. Puoi correre e scappare, ma non potrai mai nasconderti. Quando i vostri dati saranno esposti, non potrai dire che non te lo aspettavi. Noi siamo anonimus. Non puoi fermare l'inevitabile. Noi non perdoniamo. Stiamo arrivando per te. Grazie.